Che occhi che hai! Non l'avevo visti da vicino, mamma mia! Da bambino mi chiamavano Occhio. Occhio abbaglianti e io ci sono davanti. Allora, vorrei darti questo brano di Frankie Goes to Hollywood. Sai già quale? The power of love, a force from above. Bellissimo. Questa canzone sarebbe quasi troppo scontato e io vorrei dedicarla all'amore della mia vita, che è Lucia, mia moglie. Mi rendo conto che non è così facile raggiungere una condizione d'amore così bella. Quindi io la vorrei dedicare a tutte le persone che sono in cerca di questa dimensione. Bella! Ma fa centina volte senza il pianoforte. Io mi fido di te. Vai! Quando Lemuri sarà sul palcoscenico, sicuramente qualcosa di diverso accadrà. Cantarla in piedi o suonarla al pianoforte? Saremo a vedere. Col pianoforte o senza sei fantastico. Grazie di cuore. Mi piacciono tutte e due. Pianoforte senza... Eh non lo so, ci dovrò pensare. Grazie a tutti. 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 Ti è piaciuto questo video? Grazie a tutti.